Negli ultimi giorni un urlo potente si è levato all'interno della community e tutti quanti gridavano la stessa parola. Wintoys e io li asgolarmi dicendo che Wintoys è un software decisamente molto buono ma che avevo già presentato in un video precedente. Beh, inutile dire che io avevo torto e la community ragione perché sì, avevo presentato Wintoys ma è uscita la nuova versione, la 2.0, che ha arricchito questo software già di per sé fantastico di ulteriori nuove ed interessantissime novità. E allora chiedoveni a tutti e procedo subito a presentarlo. Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va! Ebbene sì, proprio qualche giorno fa mi sono imbattuto in questo articolo di Windows Forum che decantava le nuove, interessantissime funzionalità della versione 2.0 di Wintoys. Ma piuttosto che stare a leggerti tutto quanto l'articolo, ho pensato di andare a scaricare e installare insieme a te questo programma in modo da scoprire insieme le nuove funzionalità, testarle e vedere se ci piacciono. Ci sono diversi modi per scaricare ed installare Wintoys 2.0, dato che si tratta di un software pienamente supportato da Microsoft. Potremo quindi andare ad esempio nel Microsoft Store e cercare per l'appunto Wintoys 2.0. Eccolo qui, basta scrivere Wintoys e ci salta fuori e cliccare sul pulsante Ottieni per andare ad installarlo. Sempre per lo stesso motivo potremo utilizzare Winget da un prompt di MS-DOS oppure potremo utilizzare anche Warp per installarlo. Se non sai che cos'è Warp ti lascio un link alla fine di questo video. Ma io in questo caso ho pensato di fare come al solito per un motivo molto ben preciso, cioè che Microsoft di solito ha lobby della prestidigitazione e qualche volta ci fa sparire all'improvviso i software dal Microsoft Store. Così ho pensato di inserire questo software scaricabile anche sul nostro sito Gentiluomo Digitale in modo tale da non correre rischi. E allora andiamo ad aprire il nostro browser, io in questo caso apro una nuova scheda visto che il browser era già aperto e nel motore di ricerca vado a scrivere proprio Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento come sempre al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Quindi clicchiamo per aprire il nostro sito e una volta aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Facciamo clic per aprirla ed una volta aperta scendiamo un po' più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama WinToys 2.0. potremo fare clic sul pulsantone azzurro per andare a scaricare questo file, ma nel caso in cui non riuscissi a trovare questo o qualsiasi altro file che mi vedi presentare nei miei video, non preoccuparti, non strapparti i capelli, ma vai immediatamente come un fulmine su questa lente in alto a destra, facci un bel clic su e scrivi anche semplicemente una parte del nome del file, basta che sia una parola intera. In questo caso il file si chiama semplicemente WinToys, quindi andrò a scrivere proprio WinToys. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che ti comparirà immediatamente proprio il file che stai cercando. Facciamo clic per andare a scaricarlo, il download sarà velocissimo e una volta terminato potremo cliccare su questa iconcina qui per aprire la nostra finestra dei download e chiudere la finestra del browser retrostante che ormai non ci serve più. Ed ora non ci resta che andare a fare un doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato, quello che si chiama wintoys-installer.zip, e al suo interno troveremo un singolo file eseguibile. Facciamo doppio clic anche su questo file seguito da un clic sul pulsante esegui. Come vedi partirà immediatamente una schermata del Microsoft Store che andrà a scaricare il file che ci serve che è grosso 44,4 MB, quindi ci impiegherà giusto qualche secondo a terminare il download e a far partire l'installazione. Una volta terminato il download dovremo cliccare su sì per acconsentire che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e a questo punto ci troveremo di fronte a questa schermata di presentazione di wintoys su cui potremo fare clic per andare avanti sulle varie finestrelle di presentazione e infine nell'angolo in basso a destra faremo clic su questa freccia che punta verso l'alto per andare ad aprire il nostro wintoys. Andiamo subito a dargli un'occhiata. Come vedi la finestra di wintoys è suddivisa sostanzialmente in due macro porzioni. Quella grande al centro dove troviamo tutte quante le voci che ci interessano e quella a sinistra che è un menu verticale, un menu che potremo espandere cliccando su questi tre trattini orizzontali in modo tale da vedere a cosa serve ognuna delle voci al suo interno. E partiamo proprio dalla voce home. All'interno di questa finestra home potremo trovare una serie di informazioni sul nostro sistema come ad esempio il processore che stiamo utilizzando, la quantità di memoria RAM, la quantità di spazio disponibile sul nostro hard disk, le app installate, le prestazioni del nostro sistema che potremo eventualmente andare ad aggiornare. Io l'ho già fatto cliccando su questo pulsantino. le attività della rete e molto molto altro ancora. Se come nel mio caso troverai un punto esclamativo giallo non preoccuparti perché ad esempio per quanto mi concerne significa semplicemente che la mia scheda video è virtuale dato che sto utilizzando una macchina virtuale per l'appunto su VirtualBox. Se scenderemo invece a sinistra sulla voce che si chiama applicazioni, al suo interno troveremo non solo tutte quante le applicazioni installate sul nostro computer, ma avremo anche la possibilità di gestire ciascuna di queste applicazioni. Se infatti andremo a fare clic sui tre puntini orizzontali in corrispondenza di una qualsiasi applicazione, vedremo che potremo aprirla, chiuderla, aprire la cartella all'interno della quale si trovano i file eseguibili di questa applicazione, effettuare una ricerca su internet per andare a scoprire i dettagli ed eventualmente se si tratta di un'applicazione legittima o meno, potremo resettarla e quindi svuotarne tutta la cache e riportarla allo stato di prima installazione oppure ancora andare a disinstallarla. Portandoci invece sulla voce Servizi, allo stesso modo potremo gestire ogni singolo servizio presente sulla nostra macchina ed in particolare potremo avviarlo, arrestarlo, riavviarlo, sfogliare la cartella che contiene i file relativi a questo servizio, cercare questo servizio su internet oppure, cliccando sulla voce Modalità, impostarne la modalità di avvio in automatico, manuale oppure disattivato. Continuiamo ancora con la scheda Prestazioni, al cui interno troviamo per l'appunto una serie di tweaks che servono proprio per migliorare le prestazioni del nostro PC. In particolar modo ti segnalo il piano energetico ad altissime prestazioni, le schedulazioni GPU accelerate dall'hardware, di ottimizzare l'esecuzione automatica e le applicazioni in background, come abbiamo già visto in tantissimi video precedenti, di andare a impostare al meglio sulla base delle tue esigenze le impostazioni di gioco, disattivare qualora tu lo ritenga l'indicizzazione delle ricerche e disattivare l'ottimizzazione recapito. Inoltre, una buona mano può essere data anche in alcuni casi attivando questa funzione qui, quella che si chiama Processore della scheda di rete integrato. Se poi ci spostiamo sulla sezione Salute, sul menu qui a sinistra, al suo interno troveremo una serie di utilities necessarie per mantenere il nostro sistema in buona salute. Una sola delle quali mi sfugge assolutamente che cosa faccia ed è quella dal buffo nome Sonnifero, quindi se per caso riuscirai a sapere che cosa fa perché sembra che interrompa le attività pianificate nel momento in cui la macchina viene risvegliata da un'ibernazione oppure da una sospensione. Ma francamente il suo funzionamento reale, onestamente, mi è sfuggito. Andiamo avanti con gli aggiustamenti sulla sinistra che sono estremamente interessanti e comprendono una serie di modifiche possibili al desktop, al menu avvio, al menu esplora file, relative alla privacy, relative alla pubblicità, modifiche al sistema, alle prerogative del super user e alle immagini in evidenza, ovvero quelle che siamo abituati a vedere nella schermata di blocco di Windows che adesso potranno finalmente essere scaricate, salvate in una cartella ed utilizzate, ad esempio come Wallpaper, ovvero come sfondi del nostro desktop. Insomma, mille mila sono le possibilità di questa app che, per di più, come detto, ha anche la sacra benedizione di mamma Microsoft. Naturalmente, questo non ha le pretese di essere un tutorial esaustivo in merito, ma piuttosto una vista a volo di uccello. Anzi, il mio suggerimento è quello di andare a sperimentare tu e poi, se magari ne avrai voglia, di farci sapere nei commenti se hai qualche dubbio e soprattutto se c'è qualcuna di queste voci che hai trovato particolarmente utile perché queste segnalazioni sono molto gradite alla community ed anche a me, che rispondo sempre molto volentieri. Ma veniamo a noi e veniamo ai ringraziamenti del giorno, che anche quest'oggi verranno effettuati con l'ausilio della nostra mitica a listare la carta e penna che quest'oggi vede i nomi di Lui Dalgo, Massimo Randaccio, Roberto B., Elio Carminati, Nicola Lepore e Stojan Andonov che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla nostra community. E quindi a voi tutti il benvenuti o ben rimasti a bordo. Ma attenzione, squillino le trombe e rullino i tamburi perché abbiamo anche Giuliano Pelacci e Damiano Pietrocena che si sono sì abbonati, ma in qualità di distinti gentiluomini. E quindi, cari ed egregi signori, è un vero piacere togliermi ancora una volta il cappello farlocco davanti a voi. Un ringraziamento inoltre va a Ricchi Antonelli, Maurizio Andrenacci, Luca Geromin, Luca Geromin, lo dico due volte perché ne ha inviati due, e Marco Pierleoni per i loro generosissimi super grazie con i quali hanno voluto contribuire a sostenere la vita della nostra community. Ma manca ancora un altro ringraziamento, ovvero quello destinato proprio a te. Che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!